Anche senza Lautaro si riesce a vincere, Inter-Lecce terminata 2-0 con il primo gol del nostro bistecchone che oggi ha fatto una partita impeccabile, Dio santo Comunque dopo quello che è successo mercoledì, comunque per calmare le acque ci stava a vincere ed era importante questo Però comunque si è giocato bene anche se Lecce ci ha messo abbastanza difficoltà perché comunque i primi 30 minuti facevi un pochettino fatica a tirare Ha avuto un po' le tue occasioni, Arnautovic prima del primo gol ha sbagliato una roba colossale Poi il secondo ha fatto un assist di tacco, poi per il secondo gol ha fatto un assist di tacco bellissimo E quello non glielo nega nessuno Però comunque quell'errore prima del primo gol è un pochettino quello che sta succedendo Cioè quello che un pochettino succede nell'attacco ai leader è che comunque Arnautovic ci prova ma sempre Arnautovic, Sanchez non ne parliamo E ora vedremo con Ingenua come fa perché secondo me in attacco come è Terturam e Arnautovic forse è la scelta migliore se hai visto un pochettino questa partita quando Lautaro non c'è Però comunque questa vittoria un pochettino certifica che non siamo poi così tanto Lautaro dipendenti come tutti ci fanno credere Che comunque le nostre partite riusciamo a fare comunque Bravo anche Barella a fare il gol perché comunque Barella ha fatto il gol principalmente con l'estate di Arna Però comunque bene così Adesso testo la partita con Ingenua Ciao ragazzi